Good for you per Barilla significa anche sostenibile, per questo è inventata la doppia piramide. Da una parte si guarda se fa bene alla nostra salute, dall'altra se fa bene all'ambiente. Un modo nuovo di guardare al cibo, o meglio, un doppio modo. Ma come funziona? La doppia piramide è l'unione della piramide alimentare tradizionale, che rappresenta il modello mediterraneo di una corretta alimentazione, di un corretto stile di vita e della convivialità, con la piramide capovolta che rappresenta l'impatto ambientale delle singole categorie alimentari che appunto ritroviamo nel modello alimentare mediterraneo. E dalla doppia piramide leggiamo frutta, ortaggi e pasta non sono solo da mangiare di più, ma sono anche quelli che inquinano di meno, mentre la carne rossa al vertice della piramide alimentare, perché se ne raccomanda un consumo ridotto, è anche quella con un maggior impatto sull'ambiente. Insomma, salute e salvaguardia del pianeta vanno di pari passo.